E finalmente oggi con questo progetto diamo l'avvio ad un percorso virtuoso, quindi l'obiettivo è partire da quello che è un problema trasformato in una grande opportunità, un'opportunità per l'intero territorio, perché questo progetto prevede la possibilità di intervenire attraverso una società con un finanziamento regionale anche importante, parliamo di circa 3 milioni di Euro, che prevede dal momento dell'abbattimento il prelievo, il controllo sanitario ovviamente che non può mancare in questo caso, fino alla trasformazione e ad ottenere un prodotto da mettere sul mercato e quindi un prodotto legato a questo che è il cinghiale, da poter poi far utilizzare a livello di turismo gastronomico su tutto il territorio, quindi immaginiamo i ristoranti, quindi creare una filiera virtuosa e ovviamente qui abbiamo anche la possibilità in questo progetto è prevista anche l'assunzione di manodopera, quindi di personale, ci sarà un grande fermento intorno a questo, ma sono coinvolti i cacciatori, le amministrazioni comunali, sono coinvolti ovviamente gli atti in cino, gli ambiti territoriali di caccia, le figure preposte e quindi ci sarà anche, ed è previsto anche un ristoro per gli stessi cacciatori, quindi bioselettori, essere controllori, ma la cosa importante qual è? Che in tutto questo progetto abbiamo ovviamente anche previsto e insomma portato avanti quella che è la formazione stessa di coloro che sono prima linea, quindi i cacciatori che ovviamente avranno una sempre maggiore formazione e anche competenza, quindi dei veri attori di quello che è preservare la natura, preservare i nostri boschi, il nostro territorio, quindi un progetto a tutto tondo che sono certo sarà e potrà essere annoverato come un modello a livello nazionale, può sembrare ambizioso ma non lo è, perché se in altri ambiti regionali, in altre regioni hanno lavorato su piccoli ambiti, noi qui in Basilicata abbiamo ragionato in grande.